A Rieccomi facciamo una piccola ripresa della situazione attuale 25 marzo la spiaggia tra Francavilla e Pescara c'è qualche stabilimento balneare che sta lavorando per prepararsi per la stagione sperando che riaprono e qualcun altro invece che sta completamente chiuso forse hanno perso ogni speranza c'è qualcuno che fa footing, qualcuno che porta a passeggio il bambino qualcuno che va a pesca sembra after day, il giorno dopo dipende dai punti di vista, può sembrare una disolazione ma per la tranquillità e per il distanziamento sociale a me adesso mi sta bene solo che non parlando con nessuno, con chi parlo, parlo con voi, con il cellulare, con il computer con i video quindi ora più che mai adopero questo sistema per stare in contatto con la gente coraggio ce la faremo ragazzi contattatemi, scrivetemi, telefonatemi io ci sono e sto contando i giorni per la ripartenza e sto in contatto sempre con chi vuole per poter appena possibile fare un sopralluogo nel vostro paese e organizzare i prossimi eventi di Giro Borghi, Giro Gusti un abbraccio a tutti, a dopo grazie a tutti